è nata giulietta figlia di valentino rossi e francesca sofia novello un euro a studente per l'ucraina l'iniziativa del liceo mamiani da pescara a fano maxi sequestro di 28 chili di droga rocca di gradara i progetti del neodirettore bracchetti consorzio pesaro basket parte la presidenza arceci buona serata a tutti voi amici amici di rossini tv ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale rossini news copertina del notiziario di questo 4 marzo che dedichiamo ad una lieta notizia o meglio ad un fiocco rosa quello che nella notte ha visto diventare papà probabilmente il pesarese più conosciuto al mondo a urbina infattinata giulietta rossi figlia primogenita del tavugliese valentino rossi nove volte campione del mondo del moto mondiale e della sua compagna francesca sofia novello mamma e babbo sono al settimo cielo hanno scritto i due neogenitori su instagram commentando la nascita della bambina di 3 kg si moltiplicano le iniziative a sostegno della popolazione ucraina piegata da una settimana da oltre una settimana di guerra ora anche le scuole pesaresi si mobilitano con il sostegno vedi il liceo mamiani protagonista della lodevole iniziativa che vi mostriamo in questo servizio continuano a moltiplicarsi a pesaro le iniziative di solidarietà in favore della popolazione ucraina da oltre una settimana sotto i bombardamenti russi una crisi umanitaria un dramma davvero toccante anche per la sensibilità degli studenti della città e qui al liceo mamiani è partita una iniziativa davvero lodevole un euro a studente in favore dell'ucraina un piccolo gesto un piccolo e un piccolissimo esborso economico ma che può fare una grande differenza perché questa è la scuola numero alla mano più grande della città circa 2200 studenti e va da sé che dunque arriva un grande contributo dal liceo mamiani in questa operazione coordinata dalla onlus gulliver e prodotta verso l'ucraina da parte della caritas diocesana è un'iniziativa che partita da gli studenti in particolare il rappresentante d'istituto che ringrazio appoggiata da alcuni professori che hanno collaborato all'aspetto organizzativo e poi noi abbiamo come come scuola già una convenzione con l'hollo sgulliver e con andrea boccanera che è il suo presidente quindi ci ha offerto collaborazione per gestire questa situazione i ragazzi raccoglieranno un euro a testa i nostri studenti sono molti sono circa 2150 e anche i professori avranno modo se lo desiderano di contribuire tutto il ricavato di questa raccolta sarà inviato alla caritas è importante anche che i ragazzi si attivino che si informino per esempio oggi oggi loro molte classi hanno un incontro con il professor giannelli dell'università di urbino per parlare degli aspetti sia attuali che storici della situazione ucraina loro questa questa situazione la vivono con molta angoscia con molta ansia e hanno bisogno anche di essere da una parte di dare il loro contributo ma anche di essere informati di capire più possibile qual è la situazione la scuola si sta attivando per fare anche questo solidarietà da parte del liceo mamiani che si unisce al canale diretto costruito dalla caritas per il trasferimento di fondi e alla organizzazione della onlus gulliver che invita ad allargare il tiro oltre ai almaniani a tutta la città e alla sua popolazione studentesca noi ringraziamo il tutore lisotti tutti i studenti almaniani per questa cosa bellissima perché ripeto un euro a studente una piccola cosa con i numeri almaniani i numeri degli genitori dei docenti riusciremo sicuramente a fare una bellissima raccolta la raccolta ripeto e avverrà oggi sabato domenica lunedì mattina è aperta a chiunque vuole contribuire il mio invito quello di a scuole asili semplici classi genitori di auto organizzarsi e partecipare a questa iniziativa del mamiani perché è una cosa importante che serve in questo momento la raccolta fondi ha un'efficacia diversa rispetto alle iniziative pur meritevoli della raccolta di materiali si tutti i canali ufficiali che arrivano attraverso caritas una comunicazione viene fatta dalla carita dagli organi istituzionali dice di non inviare pacchi alimenti o altro alle popolazioni ai caritas limitrofe all'ucraina servono finanziamenti quindi il nostro invito è quello di partecipare alla raccolta del mamiani un euro per noi è poco tutti insieme possiamo fare una grande cosa 28 kg di droga sequestrati 800 mila euro fra eroina cocaina e marijuana dieci arresti sono questi i numeri di una maxi operazione antidroga con indagini iniziate a novembre coordinate dai carabinieri di pescara che hanno portato ad arresti in diverse città fra marche e abruzzo compresa fano oltre san benedetto del tronto monte silvano vasto e la stessa pescara un'operazione complessa che ha visto il convolgimento di quattro donne arrestate su dieci e anche la segnalazione di minorenni che venivano utilizzati come corrieri della droga gli arresti sono riconducibili interamente a due famiglie abruzzesi delle cittadine di monte silvano e cappelle sul tavo con uno degli arresti concretizzatosi proprio a fano e ieri vi abbiamo mostrato l'esame davanti alla commissione del ministero della cultura della città di pesaro candidata appunto al ambito riconoscimento di capitale della cultura 2024 oggi sono concluse anche le audizioni delle altre sfidanti e dunque non resta che aspettare la fine del mese per capire se pesaro avrà vinto oppure no pesaro si è giocata alle sue carte mettendo in mostra tutta la qualità della sua città orchestra al cospetto del ministero della cultura per puntare al titolo di capitale italiana della cultura 2024 oggi 4 marzo si sono concluse le audizioni davanti alla commissione giudicante e entro il 29 marzo verrà emesso il verdetto fra le dieci finaliste composte da pesaro ascoli piceno chioggia vicenza grosseto viareggio mesagne sestri levante con il tiguglio siracusa e l'unione dei comuni pestum cilento fra queste dieci spunterà le rede di proceda capitale della cultura dell'anno in corso e bergamo e brescia che saranno capitali del 2023 si punta a vincere ma comunque andrà il percorso di candidatura si sarà rivelato un successo è stata in ogni caso un processo formativo vincere sarà comunque difficilissimo noi ce l'abbiamo messa tutta se vinceremo sarà una grandissima festa per tutto il territorio per tutte le marche se non dovesse andare al meglio sarà tutto lavoro bagaglio che sicuramente ci porteremo per le nostre attività e soprattutto anche per la corsa capitale europea 2033 che di fatto è già iniziata abbiamo già lanciato ed è una candidatura a capitale della cultura che va ricordato in caso di vittoria riguarderà l'intero territorio provinciale territorio in cui un'eccellenza culturale assoluta è naturalmente la rocca di gradara che da qualche giorno ha un nuovo direttore che andiamo a conoscere in questo servizio da metà febbraio la rocca demagnale di gradara ha un nuovo direttore e l'architetto stefano bracchetti già funzionario nella galleria nazionale delle marche e ora messo al comando del castello dalla direzione regionale dei musei un lavoro che per bracchetti è partito alla ricerca di un ulteriore salto di qualità per quello che già il complesso monumentale più visitato della regione quello che dovremmo fare è evidenziare anche un ruolo culturale nel senso alto del termine di della rocca che molto spesso è considerata un po' una disneyland della cultura nel senso che sappiamo che la rocca è restata d'abbandono quando fu ripresa negli anni venti dallo zambettori fu restaurata in maniera un po' pesante con interventi di ricostruzione stile quindi una cosa che dal punto di vista scientifico oggi non si farebbe più però questo non vuol dire che noi dobbiamo leggere questo edificio come un passatempo grazioso ma anche riprenderlo per quello che vale innanzitutto una testimonianza storica che documenta gradara i secoli secoli di storia di gradara in secondo poi anche questa ricostruzione novecentesca stile non è una cosa che deve essere per così dire buttata nel dimenticatoio perché comunque è testimonianza di un gusto culturale di un'epoca specifica e comunque all'interno della rocca si conservano ancora delle parti originali nelle decorazioni e gli arredi di interesse direzione di brachetti che si inserisce nella gestione della rocca in capo al comune di gradara una novità attivatasi nell'estate 2020 ma di fatto zavorrata finora dal biegno di pandemia la gestione col comune per certi versi facilita i rapporti della della struttura con il pubblico perché il comune più sul territorio più vicino alle esigenze del pubblico della più vicino alle esigenze della gli abitanti di gradara che comunque con turismo della rocca vivono perché insomma nella realtà di gradara la presenza della rocca è sicuramente importante da altri punti di vista lo stato il ministero può offrire e aiutare il comune sotto tanti aspetti a cominciare dalla promozione da architetto brachetti è pronto ripensare alcuni spazi della rocca a cominciare dal recupero del secondo piano riguarderanno però una bella bella fetta di questi lavori il recupero del secondo piano al secondo piano ci sono molti ambienti alcuni anche interessanti dal punto di vista spaziale architettonico quindi che sarebbe carino sarebbe intelligente rendere fruibile al pubblico anche se con modalità di contingentamento di visite accompagnate eccetera eccetera e quindi penso che sicuramente parte di questi ambienti entreranno nel circuito della rocca l'importante è che sì la rocca amplierà i suoi spazi e questi spazi saranno in parte fruibili al pubblico dalle colline di gradara alle colline di monbaroccio dalla cultura monumentale alla cultura della mobilità sostenibile rientra in questo concetto il progetto ciclo arzilla che sta prendendo forma unendo fano monbaroccio e pesaro a misura di pedalata un progetto che è stato applaudito dal sindaco di monbaroccio emanuele petrucci che ascoltiamo in questa intervista finalmente un accordo che potrebbe prevedere veramente un unico obiettivo per tre comuni due molto importanti a livello numerico fan e pesaro la seconda e la terza città delle marche tre con orgoglio il mio comune che sebbene piccolo si interfaccia in maniera trasversale con le realtà limitrofe in particolare le due città più grandi che ho appena citato una ciclovia che va a rafforzare quella che la ciclovia del foglia che in itinere cui progetti sono in stato d'avanzamento e la ciclovia del metauro che già sta andando in maniera importante avanti una realtà la nostra quella ciclovia arzilla che collega queste due ciclovie della parte interna e che al contempo riesce ad affacciarsi finalmente su quella che la ciclovia adriatica una prospettiva anche per il turismo che si rivolgerà su peso refano che avrà sia un occhio verso il blu del mare ma anche un occhio verso il verde delle nostre colline del nostro bosco del beato sante che fa sarà facilmente raggiungibile tramite questa ciclovia tramite impenso la mobilità sostenibile quindi e bike che diventano un'opportunità per il turismo del territorio che si vuole interfacciare in mezz'ora circa tra la realtà costiera e quella del primo introterra confido che alcuni interventi anche con le associazioni ambientalistiche che sono state fatte le quali hanno apprezzato la bontà del progetto nell'atto in cui non si asfalterà quasi nulla perché si riqualificheranno territori in essere territori esistenti che attraverseranno le nostre colline attraverseranno le nostre vallate passando per le attività produttive del territorio quindi non ci sarà solo una forma turistica tra la collina e il mare e viceversa ma anche il rafforzamento delle attività turistiche ricettive ed economiche improntate su quelle che sono le attività imprenditoriali dei nostri produttori delle nostre tipicità dei nostri agricoltori che creeranno sinergia in tutto il progetto che riqualificherà una vallata intera ed ora sanità ne soffrono 30 mila persone nelle marche e oltre un milione in italia parliamo del glaucoma una grave patologia oculare per la quale dal 6 al 13 marzo si terrà la settimana mondiale della prevenzione settimana che il 12 marzo avrà a pesero una giornata di visite e controlli gratuiti a differenza degli ultimi anni abbiamo anche un'iniziativa più concreta diciamo della solita diffusione di volantini o di informazioni perché faremo anche dei controlli della vista gratuiti in sede e in particolare la prevenzione del glaucoma è una cosa molto importante perché il glaucoma è una delle malattie più diffuse ma meno conosciute e quasi asintomatiche quindi è molto difficile fare questo tipo di prevenzione per cui è importante che la cittadinanza sappia che nella settimana che va dal 6 al 12 marzo ha possibilità di chiedere informazioni e soprattutto di venire a fare dei controlli della vista gratuiti in sede da noi semplicemente prenotandosi allo 0721 416171 e fissando un appuntamento per il 12 di marzo e la settimana mondiale del glaucoma sono anni ormai che noi partecipiamo a questa iniziativa e anche quest'anno faremo diffusione di opuscoli informativi a fano nelle due giornate di giovedì e di sabato 12 e contemporaneamente a pesero appunto faremo queste visite gratuite grazie alla disponibilità del dottor francesco gaudenzi oculista quindi esperto di glaucoma il glaucoma è una malattia che viene definita il ladro silenzioso della vista nel senso che è legato alla malattia del nervo ottico causata prevalentemente ma non non esclusivamente dall'inalzamento della pressione oculare la quale può schiacciare il nervo e normalmente provoca dei danni non alla visione diretta quindi alla capacità di lettura ma compaiono delle macchie nel campo visivo per cui il paziente non se ne può accorgere e l'evoluzione di questa malattia quindi è lenta e subdola e spesso e volentieri ci troviamo davanti a persone che hanno già perso un occhio completamente stanno perdendo l'altro perché poi i campi visivi si sovrappongono e non ci si accorge che un occhio se ne sta andando quindi è molto importante controllare innanzitutto la pressione oculare e questo farlo in maniera importante dai 40 anni in poi solitamente esistono forme di glaucoma che sono anche giovanili congenite che ricevono e riconoscono degli interventi già in ospedalieri quindi vengono già diagnosticati prima mentre invece le forme che si verificano più tardi nella vita hanno bisogno di un'attenzione particolare cioè il paziente o comunque le persone in genere devono sottoporsi dai 40 anni in poi a un depistage controllare la propria pressione e non solo farsi una visita oculistica da uno specialista che possa controllare anche le eventuali eventuali danni al nervo ottico una settimana per celebrare la giornata internazionale della donna e quanto in programma dal 7 al 14 marzo con le iniziative promosse dall'assessorato alla crescita e alla gentilezza del comune di pesero prima giornata lunedì alle 10 30 con l'incontro aliceo mamiani con l'orchestra zora nella stessa serata del 7 marzo anche il concerto spettacolo alle 20 e 30 alle 21 alla chiesa della maddalena miriam e le altre voci di donna nella musica ebraica altra iniziativa è invece quella di ente olivieri biblioteca oliveriana e provincia che celebreranno la ricorrenza lunedì 7 marzo alle 18 con l'incontro dal titolo le donne dell'afghanistan tra difesa dei diritti e perle di libertà l'incontro si terrà nella sala pierangeli della provincia e ci porterà a ripercorrere la storia la storia di due ragazze afghane alca e roya sadat che arrivarono a pesero nel 2007 e 15 anni dopo sono diventate due registe cinematografiche affermate negli stati uniti e chiudiamo il nostro notiziario con il basket domenica torna in campo la vl reggio emilia e lo fa dopo un restyling delle consorzio pesero basket che vede il passaggio di consegne della presidenza da luciano amadori a franco arceci vediamo le interviste nel servizio di marco cadendo luciano amadori visibilmente commosso durante la conferenza stampa lascia la presidenza del consorzio ma non lascia il consorzio questo è importante perché è stato un collante meraviglioso in tutti questi anni di presidenza è un po come un figlio l'hai visto nascere adesso va per la sua strada però insomma il genitore non lo lascia arriva franco franco arceci una persona che non ha bisogno di presentazioni una persona molto brava valida preparata non lascio perché perché non mi piace più lascio semplicemente perché gli impegni di lavoro non mi permettono di fare nel miglior modo quello che è giusto fare per questa società franco siamo in buone mani franco arceci il presidente costa ha dichiarato di avere tenuto per mano per dal 2014 luciano amadori alla presidenza del consorzio è convinto che terrà per mano anche lei io sono certamente convinto perché amadori l'ha detto oggi in conferenza stampa e a me l'ha ripetuto molte volte lui farà un passo di latte non un passo indietro rimarrà nel consiglio di amministrazione continuerà a dare il suo contributo che in questo in questi nove anni è stato prezioso per far crescere il consorzio e per tenere unito il consorzio questa presenza è fondamentale io quindi punto molto su questa garanzia innovazione vuol dire anche contrattualizzare i consorziati in maniera pluriannale può essere un'ipotesi interessante ma non è questa l'ipotesi a cui avevamo pensato pensavamo a quel qualche innovazione di carattere societario che potesse dare un contributo più importante rispetto alla fatica enorme che fin qui è stata fatta di aggiungere consorziato a consorziato di fare un gruppo di quasi 30 consorziati di fare in modo che ogni anno tutti riaderiscono a questa iniziativa e quindi pensavamo a un'altra ipotesi ma anche questo potrebbe essere interessante dico aspettiamo di capire se troviamo qualche entrata aggiuntiva qualche innovazione qualcosa che può garantire alla squadra e a questa esperienza sportiva un passo avanti di maggiore solidità e anche di maggiore entusiasmo e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornali rossini news ma non si conclude lo spazio dedicato alle all'informazione perché subito dopo il tg alle 20 eccolo il valle foglia il pian del bruscolo magazine appuntamento fisso di ogni venerdì con il telegiornale di questo territorio condotto da edoardo razzi appuntamento dunque alle 20 prima replica alle 23 e 15 prima serata alle 21 e 20 con il nostro speciale questa sera dedicato alla nuova sede del polo diagnostico radiomagnetic situato a fano zona fosso sei ore e poi l'informazione su rossini tv torna puntuale domattina alle 7 e 20 con il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali del sabato questa edizione di buongiorno rossini lo vedete in grafica sarà condotta dal nostro marco cadendo a partire dalle 7 e 20 sabato di sport perché alle 16 ci sarà anche la trasmissione della partita in diretta dell'ital service che sarà in trasferta in e puglia contro la vitulano drugstore manfredonia appuntamento dunque da non perdere in diretta dalle ore 16 così come è in diretta l'appuntamento domenicale con la santa messa di rossini tv un appuntamento fisso di ogni domenica che in questo 6 marzo verrà trasmessa la funzione verrà trasmessa dalla duomo di pesaro a partire dalle 11 e 30 e dunque tanti appuntamenti che vi invitiamo a seguire su rossini tv si conclude invece qui questa nostra edizione del notiziario da parte mia un cordiale saluto e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi